ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video siamo su racing giocatore singolo gara slime lenta fatto 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 e dobbiamo fare questa allora l'ultima volta avevamo usato lui quindi lei l'abbiamo usata lui l'abbiamo usata tartarughe ninja vabbè l'ho usato quella blu quindi usiamo lui speriamo che sta gara non è molto difficile perché ha avuto difficoltà nelle altre oggi subito il turbo l'abbiamo preso raga subito via guarda le balle bambina vai con una sgombatina ok facciamoli fuori tutti ecco arrivano saltino sgommatina scorciatoia che perdo perché non avevo abbastanza sta gara non si capisce un cazzo raga aia pensavo che era un oggetto vabbè allora scorciatoia solo col turbo la prendiamo perché sennò non ce la cadiamo più quindi se non ho il turbo non prendo la scorciatoia vai 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 non ho ancora il turbo quindi ora si e ne spara avanti però nooo ma qualcunincio riapre il culo sto gioco minchia quanti nani dal giardino ci sono dai ok ora c'è la birra quindi vabbè la usiamo eh va cagare va dai con la sfiga che ho addosso io non mi fa fare la cosa vediamo ah stavolta ce l'ho fatta vai solta la scocciatoia ce l'ho fatta e c'ho anche la la medusa però ho vinto continua continua oggi col turbo 2 su 2 lo buono non non ok non non ma non non oh che schivata vuole eh vabbè ce l'ho provato è un giro fatto vaffanculo dai va a cagare va a cagare no bella bella dai così mi dà sempre la birra comunque l'ho usato magari perchè sono prima eh va a cagare ma oppure il maiale vale cioè ti rallenta pure eh va a cagare vai così vai così vai col turbo e andiamo a vincere eh interessante sta mappa vai il 3 su 3 oggi oh oggi è il mio giorno fortunato con i turbi oh tartaruga oh pezzi di merda infami beccati di questo no oh stronzo eh non ho fatto il turbo oh si riconosce ci riconosce un cazzo questa mappa aiuto vai quel cane vai col turbo usa tutto il turbo che hai dove cazzo sono porto di inizio un altro che culo ma schivato ecco il cane per la blusa porco l'inicio si capisce un cazzo lì c'è una scocciata io ma non la prendo quanti scocciata ci sono qua? vabbè qualcuno ha preso un'altra palla che mi stai seguendo grande di una sega oh schivato tutto fra tutto t'ho schivato oh che cazzo ha persato il nano là sopra vai vai merda eh tutti li ho presi in faccia basta oltre prendiamo la scocciata io vediamo com'è beh rai che cambia molto eh e va a vincere vediamo se vai oh che cazzo è sta roba non si capisce un cazzo ho preso qualcuno che cazzo di mappa è non si capisce niente ma dovevo no paura perché cazzo di mappa è bello ci sta questa mappa vabbè non ho visto quanti danni da giochi saranno tutti i miei penso che quella scatola mi colpisce un po male bella ecco il robottino, cane che gli da il turbo vedo un cazzo, togli sta mano eh, lo sapevo che quei rovilati dove si sono in vantaggio? sono in vantaggio strategico vai robottino ah, lo sapevo ah, lo sapevo vabbè, vabbè, niente vediamo questo ecco il robottino e va a vincere 40 punti siamo primi oh, squiti noi balliamo allora 3 stelle 40 punti 104 no 504 monete ne sblocchiamo un nuovo membro della squadra e un nuovo pilota ok vediamo un po quante gare ci mancano ah una ah, una gara ci manca no sì, una gara ma sai cosa vi dico? facciamola subito allora e voglio usare come ultimo personaggio della serie ma questo qua, dai sì vediamo un po cosa fa sta roba ottieni uno sprint dopo aver attaccato un avversario no però stavolta voglio mettere questo turbo oh, oggi è il mio giorno fortunato con i turdi oh ecco ancora quel ma dai ma sei una merda che palle oh, non riesco a fare il boost porco d'incio oh, ma che cazzo porco d'incio pappaculo e che cazzo ogni volta che cerco di fare sto cazzo di salto non me lo fanno fare mannaggia voi oh, stavolta ce lo passo becca di queste non mi ero per cazzo vabbè cazzo bottini ah, ma c'è c'è il boost c'è il nano no merda perché mi ha slittato oddio santo vabbè eh stavolta mi slitta troppo sta macchina non va bene grappa troppo a destra eh pareo meno male che non me l'hanno fatta mentre stavo saltando perché sennò oh, non va più oh, sono troppo lento ah non piedarsi certe cose non ho ancora capito a che cazzo serve però vabbè ehi stavo ancora cadendo giù ultimo giro oh, va che velocità cazzo quello che è mocato guarda porca puttana lo sapevo su Grazie a tutti. E va a vincere. Oggi veramente con il turbo ci sono dentro, alla granja. No, ma io stia mattata la conosco. È tipo simile a una che abbiamo fatto. Che padre, questa è la brutta, non mi piace. Mi pareva. Vai! Mi fa il foglio. Vabbè. 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 per questo scorciatoio vediamo com'è ma mi fa sboccare qua fuori mi pareva che cadevo ultimo giro nooo non ho bisogno di merda parco ninja oh 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 che cazzo vai no non mi puoi superare te eh all'ultimo giro eh ma che cazzo stai lì indietro non posso perdere sta gara ancora due gare e abbiamo finito praticamente questo gameplay oggi mi chiacco il turbo faccio faville ma in queste gare non l'ho fatte prima uuuuuh te l'ho parata me è perso il ma gare ok dovevo andare stai parlando con un mezzo pro di sto gioco dai col cagnolino mi dà la birra vai così l'ho schivata la menusa non so come ma l'ho schivata sapevo io che il maiale era un bel cazzo comunque stracombo del cane e della ragazza che ti colpisce col bastone per darti il turbo e quando prendi gli oggetti ti mette un nano è ottimo questa cosa la odio c'è una specie di barriera che sta succedendo che è successo qua tutto sta roba oh muori che sta succedendo perché stavo per perdere all'ultimo giro ultima gara ah stavolta niente vaffanculo beh è bella la mia macchina però levatevi dal cazzo oh come fai a essere primo tu terzo di merda metta di questo dai dai cazzo di cacca ecco il turbo vai così vabbè vai che ci siamo ancora due giri qualcuno colpito col tronco vai così vai così ci pareva e pure la medusa oh porca mi stanno recuperando non va bene mi stanno recuperando e non va bene vai vai eh ti pareva vai accederà con tutto il boost che hai vai così di meduse per la palla che da schifo beccati la mia palla è un altro missile aia vai 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 dai che andiamo a vincere 6 40 punti squeezy è triste piange io rido e sculetto e c'ho un mondo in mano questo non so che personaggio è non lo conosco gli ha tirato il mondo attosso 3 stelle sblocchiamo nuovo membro della squadra un nuovo membro della squadra un nuovo pilota quanta roba sto sbloccando nuovo wow e ce l'abbiamo fatta raga io direi di salutarci qui e ci vediamo in un altro episodio